Grazie a tutti Ciao a tutti ragazzi e benvenuti sul canale, io sono Maxi e questo è un video recensione per i giochi in uscita del mese di dicembre su entrambe le console. Allora per incominciare su Xbox One avremo due titoli molto particolari, il primo è Soma che è tanto atteso da due anni, il secondo è Player Battleground, mentre per PlayStation 4 avremo la versione definitiva di Dead Rising 4, avremo Horizon Zero Dawn, avremo anche i due DLC di Resident Evil e il primo DLC di Destiny e per finire avremo anche la versione HD di Okami. Siete pronti per cominciare ragazzi? Soma si prepara ad arrivare su Xbox One il primo giorno di dicembre ragazzi, permettendo agli utenti della console Microsoft di giocare con una delle migliori avventure horror disponibili sulla piazza. Da segnalare anche l'inclusione della safe mode, una nuova modalità pensata per tutti i giocatori che preferiscono concentrarsi sulla storia senza doversi preoccupare delle minacce nemiche. Se amati le grandi avventure horror e la fantascienza, l'ultima fatica di financial game rimane una delle migliori esperienze che riesce ad amalgamare alla perfezione questi ingredienti, con un occhio di riguardo per l'immersività e la buona scrittura del gioco, è abbastanza giocabile quindi penso che sia un ottimo titolo per tutti gli utenti di Xbox One che vorranno giocare questo gioco e avere una buona percettività del gioco. Did Racing 4 ragazzi, giusto in tempo per le festività natalizie, Did Racing 4 si avvicina finalmente al debutto su PlayStation 4 con Frank's Big Package, edizione che include il gioco uscite su Xbox One e PC che comprese le impostazioni della difficoltà aggiuntive in seguito. Allora, la nuova modalità Capcom Heroes in cui potremmo fare indossare a Frank West una dozzina di costumi provenienti dai classici Capcom per tutti i contenuti scaricabili, contenuti bonus pubblicati fino a oggi, comunque avremo anche questi, tra cui vi segnalo anche il pacchetto di costumi di Street Fighter e il pacchetto di San Valentino di Sangue. Se non avete avuto ancora l'occasione di giocare l'ultima avventura di Frank West, intendete farlo su PS4, non perdete questo appuntamento con Dead Racing Frank Big Package ragazzi, fissato per il 5 dicembre. Step Road to the Olympic ragazzi, una nuova espansione dedicata ai giochi olimpici invernali di Pyeongchang del 2018 con tanto di licenza ufficiale. I giocatori avranno l'opportunità comunque di gareggiare per il podio olimpico della Corea del Sud senza dimenticare comunque la possibilità di esplorare anche le montagne giapponesi per quello che si presenta comunque come un contenuto ricco di nuove sfide, location e comunque location inedite. Diciamo invece se non avete comunque mai giocato a Step il 5 dicembre arriverà anche Step Winter Game Edition pacchetto che comunque include il gioco base più l'espansione di Road to the Olympics rappresentando comunque un'ottima occasione per recuperare in un colpo solo l'originale simulatore sportivo più il nuovo DLC ufficiale che vi sarà offerto. Parliamo un po' di Destiny ragazzi, Destiny 2 dopo il primo flop iniziale hanno deciso di rilanciare un'espansione, la maledizione di Osiride. Allora l'espansione includerà un nuovo pianeta esplorabile Mercurio, nuove set di armi e armature, nuove quest, una nuova tipologia di evento pubblico e nuove missioni storia ragazzi in cui bisognerà mettersi sulle tracce di Osiride il leggendario comunque il leggendario stregone che ha fatto da mentore a Ikora e tenete d'occhio anche le nuove attività in cursione chiamate Ride Lair, un insieme di sfide inedite che avranno luogo nella pancia di Levi e Atano qualcosa del genere mi pare che si chiama. Comunque diciamo questo gioco vi offrirà delle nuove cose insomma, dei nuovi contenuti quindi tenetelo d'occhio e cercate di non perderlo. Tesorge ragazzi, anche qui parliamo di un'espansione, un'espansione per questo gioco. comunque dopo la pubblicazione del DLC fuoco e ghiaccio, Tesorge si prepara comunque a ricevere una nuova espansione che si chiama Walk in the Park, diciamo una nuova ambientazione che ci porterà a esplorare un parco divertimenti in cui potremmo scovare nuove armi, impianti, armature che ovviamente e ovviamente affrontare comunque dei nuovi nemici, un terribile boss. Lo stesso giorno ragazzi in cui uscirà l'espansione uscirà anche Tesorge Complete Edition, l'edizione completa dell'Action RPG di Deck 13 che include il gioco base e tutti i contenuti rilasciati fino a questo momento, tra cui Walk in the Park naturalmente e tutti gli altri contenuti. Comunque l'appuntamento ragazzi è fissato per il 5 dicembre su Xbox One e PlayStation 4. Parliamo invece ragazzi di The Walking Dead. Il 5 dicembre arriverà anche The Walking Dead Telltale serie collection, sia nel formato fisico che in quello digitale. L'edizione completa di Telltale di The Walking Dead comprensiva comunque di 19 episodi provenienti dalle varie serie pubblicate fino a questo momento. La raccolta include infatti The Walking Dead stagione 1, stagione 2, 400 Days, The Walking Dead Mission e il più recente The Walking Dead A New Frontier. Comunque è una buona occasione per mettermi diciamo in pari con la serie su PS4 e Xbox One in attesa della quarta e ultima stagione che arriverà nel 2018 ragazzi. Quindi io consiglio a tutti gli appassionati di The Walking Dead di approfittare e rimanere in attesa dell'ultima stagione del 2018. Parliamo invece ora di Horizon Zero Dawn ragazzi. È tempo di edizioni complete anche per Horizon Zero Dawn. Comunque è un'esclusiva per PlayStation 4 realizzata da Guerrilla Games. Horizon Zero Dawn Complete Edition. Allora include il gioco base di Frozen Wild, la recente espansione che aggiunge una nuova area, nuovi personaggi, una nuova vicenda da vivere nei panni di Aloy. Considerando che gli sviluppatori non hanno alcuna intenzione di pubblicare altri DLC della storia, questa completa edition vi permetterà a tutti gli effetti di giocare una versione definitiva di Horizon Zero. La data di uscita è fissata per il 6 dicembre, un appuntamento diciamo da non perdere per i possessori della console Sony che hanno intenzione di recuperare il titolo ragazzi. Tokyo Xanadu e X Plus A distanza di due anni dalla pubblicazione giapponese e a pochi mesi dalla release occidentale della versione di PlayStation Vita Finalmente Tokyo Xanadu si prepara a debuttare sulle nostre piattaforme PlayStation 4 con Tokyo Xanadu e X Plus Riedizione che presenta diverse migliorie tecniche come texture più definite, frame rate a 60 fps, nuove ambientazioni ragazzi, nuovi personaggi con cui interagire, nemici aggiuntivi e boss completamente inediti da affrontare senza dimenticare comunque l'inclusione delle due modalità Extra Boss Rush e Time Attack Il gioco sarà disponibile dall'8 dicembre sulla console PlayStation 4 ragazzi. Loco Roco 2 ragazzi, annunciato durante le 3 del 2017 a Los Angeles, riserva lo stesso trattamento del primo capitolo uscito in origine su PSP Il gioco verrà dunque riadattato nei controlli per sfruttare le caratteristiche del DualShock per PlayStation 4 ma dal punto di vista tecnico e grafico potrà sfruttare comunque la potenza di PlayStation 4 e PlayStation Pro garantendo in un primo caso la risoluzione a 1080p il secondo supporto dei 4k nativi, se vi siete comunque lasciati sfuggire il primo capitolo provate a giocare questo anche se il mio avviso secondo me questo gioco è una cagata pazzesca, però vedete voi parliamo invece di Resident Evil 7 ragazzi che sarà un mese molto ricco per Resident Evil che è un survival horror di Capcom che in questo mese riceverà in un solo giorno due aggiornamenti una Gold Edition è pensata per offrire un'esperienza completa per quanto riguarda i due DLC Not Aero sarà scaricabile gratuitamente per tutti i possessori del gioco mentre End of Zoe potrà essere acquistato singolarmente a prezzo di 14,99€ è preciso comunque che Resident Evil 7 Gold Edition includerà il gioco base e tutti i contenuti disponibili fino al momento della sua uscita vale a dire Banned Photage Volume 1 Banned Photage Volume 2 e lo stesso End of Zoe dopo il successo ottenuto su PC di Player Battleground con 22 milioni di copie vendute debutterà in accesso anticipato anche su Xbox One grazie alla Game Previev realizzata in collaborazione con Microsoft il porting comunque del celebre Battle Royale sarà curato e incentrato in modo da sfruttare caratteristiche della console e il sistema di controllo del D-Pad senza dimenticare comunque il supporto di Xbox One X per garantire prestazioni ancora più solide a partire comunque dal 12 dicembre tutti gli utenti di Xbox One potranno partecipare al fenomeno multiplayer del momento con sfide intense fino a battaglie con 100 giocatori parliamo di Okami HD ragazzi che verrà rilasciata anche una versione 4K per entrambe le console diciamo che è abbastanza dovuto dal momento che comunque stiamo parlando di un'avventura molto ispirata sul piano artistico e grafico comunque con uno stile visivo che affonda le sue radici nella tradizione giapponese e nella mitologia comunque sintosista questa nuova opera di restauro comunque si presenta un'operazione molto gratita in particolare considerato che il gioco verrà posto al prezzo budget di 19,99 penso che sia una buona notizia per tutti gli appassionati del genere questo gioco sarà disponibile a partire dal 12 dicembre ragazzi parliamo un pochino di Final Fantasy 15 ragazzi che sarà diciamo una sorta di espansione l'espansione includerà una nuova storia in cui si lotterà per le strade di Altesa nei panni di Ignis l'occasione in cui potremo sfruttare l'abilità multicentro esclusiva del personaggio quindi diciamo che sarà buona per affrontare una serie di sfide, combattimenti e la nuova avventura si potrà inoltre concludere con diversi finali ragazzi permettendoci di scoprire vari eventi in base alle scelte che faremo e che avremo interpreso nel corso della storia l'appuntamento con l'episodio Ignis di Final Fantasy è fissato per Xbox One e PS4 il 13 dicembre ragazzi quindi per tutti gli appassionati non perdete questa espansione Tiny Metal si avvale di una struttura di uno strategico mista a combattimento con una campagna in single player di circa 20 ore e la possibilità di giocare in multiplayer uno VS1 il titolo promette l'inclusione di 13 unità uniche e la presenza di meccaniche mai viste prima nella panoramica di questo gioco quindi non perdete questo gioco ragazzi per tutti coloro che avessero comunque bisogno di comprare un articolo per quanto riguarda il disco fisico contattate questo indirizzo email play giochi editor oppure non so compratelo su playstation store se volete comunque spero che il video vi sia piaciuto lasciate un like e al prossimo video ciao a tutti Ciao a tutti